Questa è la versione remix, fatta da Ferrante, ci regalò un grande successo radio, altrimenti non avremmo avuto probabilmente, quindi lo ringrazio, bello ringrazio. Quindi non mi ricordo la stesura, dovrebbe iniziare qua. Cosa hai fatto con la Maria? È una canzone d'amore, mi sale dal cuore, con ardore e candore, in stile cantatore, caro ascoltatore, la canto con calore, su gente, un mix tra mazzini e cocciante e cosciente, che serenate ne hanno già scritte tante in tanti, con sentimenti intenti differenti, con pianti, lamenti, accordi, stugenti, ricordi, ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava, che Luca si bucava, per Anna che sapeva fare all'amore, a Gianna, Gianna, Gianna che aveva un coccodrillo e un dottore, a Marinella volata su una stella, la sua e che due vale ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu, così dopo signora Lia, passerotto non andare via, ecco la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco, sette anni ho sono, vestita in verde e con quel suo profumo buono, stava con un mio amico che mi ha chiesto me la tieni, devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani, non ci sono problemi fidati di me che intanto che tu vai facendo il chiacchiere, e anche se a quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Ho 43 anni, senza quello che mi fai la doppi, alla stessa velocità di quando ne avevo 20. Eh zio! Posso dire una cosa da bimbo minchia? Posso dire una cosa da bimbo minchia? Sì. Haters sucate!